Complimenti per il primo tempo, siete un po' calati nel ripreso, però tu e Cannavalo al primo tempo li avete imbrigliati non male. No, sono contento di fare parte di questa società, una grossa società, la prima società fuori di Portogallo, non mi sono divertito, mi ha aiutato tantissimo come giocatore, come uomo, e è sempre un piacere tornare qua, è sempre un piacere tornare a questo stadio, vedere altri giocatori, tanti grossi campioni, è sempre un grosso piacere. Ti sei anche un po' commosso, perché molti di voi facendo il giro del campo hanno qualche lacrime e scende? Sempre bello, sempre importante, sempre gratificante, scambiare le idee, rivederle alle persone, anche se adesso tutti quanti facciamo mestieri in tutte le altre parti, mi è sempre bello tornare qua a commemorare questi centenari del Parma. Pedro Mendes, quando è arrivato a Parma, ha detto che il suo idolo eri tu da bambino, un giocatore del Parma, un difensore. C'è qualche somiglianza da te, Mendes? Mi piacevo sentire questo, ma è importante che lui faccia bene le cose, che cerchi di fare il suo tragetto, cerchi di fare le cose per bene, e questo dopo, se gli piace come giocatore, per me è molto importante anche. Grazie.